Allora, buongiorno amici, la situazione è un attimo critica, non starò qui a parlarvi del periodo particolare che stiamo affrontando perché non sono un medico, non sono una virologa, non sono nessuno di tutto ciò, non sono una specialista in queste cose un po' me ne intendo perché studiando farmacia ovviamente ho studiato anche virus, pandemie, epidemie, vaccini e quanto altro però non staremo qua a parlare di questo ma voglio condividere con voi quello che faccio in questo periodo di quarantena come sapete il coronavirus è stato dichiarato pandemia a livello mondiale e da un lato sono anche non dico contenta di questo ma fortunatamente è stato dichiarato da subito in modo tale che tutto il mondo possa prendere le misure di precauzione e di sicurezza e fermare questa pandemia. Ovviamente avrei preferito che non fosse giudicata tale però nello stesso tempo come un servizio che ho sentito ieri sono stata contenta che l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'abbia subito affermato, l'abbia subito diffusi in modo tale che fin dal primo istante si potesse andare a prendere queste misure anche in quei paesi dove ancora non sono state prese. A parte questo ovviamente è una situazione particolare, critica che mi mette abbastanza paura e quindi siamo tutti in quarantena e è molto importante rispettare questa quarantena quindi stare in casa e nei miei vlog e nel mio youtube vi mostrerò comunque, vloggando ovviamente solo da casa che cosa io sto facendo in questi giorni, vi mostrerò comunque le mie recettine, i miei eventuali allenamenti in casa e a parte questo vi voglio dire che sul mio profilo Instagram che arrivate qui sotto nell'info box trovate già i due primi workout che ho fatto a casa, ricordandovi che non sono un personal trainer ma vi condivido solo quello che faccio io che può non essere al 100% perfetto, preciso e giusto trovate sia un allenamento per la parte alta, sia un allenamento per la parte bassa che comprende principalmente i glutei, l'interno coscia, il quadricipite e i polpacci quindi abbastanza completo, a parte questo ora impegnerò un attimo il mio tempo sistemando la camera perché come potete notare è completamente in disordine quindi impegnerò un attimo del mio tempo a sistemare la stanza che credo sia fare un attimo di pulizia di primavera una delle cose a poter fare in questo periodo di quarantena per sistemare tutte quelle cose che non si ha mai tempo di fare ad esempio, non lo so, mettere a posti i vestiti ordinare il cassetto dei calzetti che è sempre in uno stato confusionale ordinare il tipico cassetto dove cacci dentro le cose a caso ordinare la make-up collection perché no e così via quindi credo sia un momento perfetto per fare un po' di decluttering io in realtà la make-up collection l'ho sistemata davvero da poco quindi è in ottime condizioni così come il mio armadio l'ho sistemato poco fa tranne questa anta qua che è un po' da sistemare quindi oggi metterò posto tutta la stanza un altro giorno mi terrò per quell'anta buongiorno raga allora, a parte che questi vlog in quarantena sono un po' una palla nel senso che dobbiamo stare a casa quindi vi tengo compagnia come posso allora, vi racconto che ho oddio, c'ho un'ape in camera perché mamma ha aperto tutte le finestre questa cosa mi destabilizza la vedete? là? andrà fuori? ok, a parte questo quindi ho deciso per rendere questo vlog un po' più interessante di condividervi il workout che ho fatto l'altro giorno nel cortile di casa mia al muro quindi avete bisogno solo di un muro e l'ho preso da questi ragazzi che vi taggo qui sotto su Instagram salutate Gennaro mi è piaciuto un sacco quando l'ho visto su Instagram quindi ho deciso di riprodurlo mi è piaciuto da morire l'ho svolto tre volte e dopo ho fatto anche un circuito fatto da me gambe e ABS addominali che mi è piaciuto anche quello ma non ho filmato quindi ve lo filmo prossimamente e ve lo condivido in un video a parte perché questo workout non è stato inventato da me ma l'ho preso da questi ragazzi quindi ho deciso di condividervelo nel vlog e un workout appunto al muro la prima cosa che ho fatto è stata un po' di riscaldamento ho fatto delle verticali al muro con un po' di push up e stand it quindi mi abbassavo con le braccia e mi ritiravo su per far lavorare la parte di upper stringevo bene gli ABS per far lavorare anche il core nello stesso tempo ho nel cortile del mio giardino un portabici in legno e quindi ho fatto qualche trazione ho fatto 5 serie al massimo del numero di trazioni che potevo fare come vedete dopo e dopo ho iniziato il circuito questo circuito comprende diversi esercizi al muro il primo esercizio come vedete sono dei piegamenti però con lo spostamento delle mani al muro e poi a terra il secondo esercizio invece prevede dei salti guardando non il muro la parte esterna piegati saltate con le gambe da terra al muro poi guardando il video sarà tutto molto più efficace più chiaro il terzo esercizio prevede sempre con le gambe al muro dei piegamenti delle gambe il quarto esercizio prevede sempre il lavoro di gambe quindi andiamo con la gamba destra e la gamba sinistra a appoggiarla per terra partendo sempre dal muro poi nel video si capisce tutto ah mi sono dimenticata prima del lavoro gambe c'è un esercizio molto molto utile di ABS spalle nella quale appoggiate al muro con i piedi e le mani per terra dovete sollevarvi e toccarvi con la mano destra e la spalla sinistra e viceversa comunque si vede tutto mi è piaciuto tantissimo come workout e soprattutto ho sentito lavorare tantissimo la parte delle spalle e del petto probabilmente come spiegavo su instagram se ancora non mi seguite trovate il link sotto perché io sono abituata ad allenarmi in palestra e non ho corpo libero in questi modi e quindi probabilmente sto cioè sto senza probabilmente dando nuovi stimoli al mio corpo e di questo ne sono molto contenta anche perché questi workout mi stanno piacendo da morire da morire e quindi credo che continuerò a farli anche quando riaprirò la palestra magari in un giorno di rest magari anche il sabato o la domenica dato che arriverà il bel tempo è un po' 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 da qualche parte da qualche parte le i valori nutrizionali perché sono super super low carb ecco qua vedete allora dichiarazioni nutrizionali abbiamo per dose che considera due misurini da 25 grammi quindi 50 grammi vabbè guardiamoli per 100 grammi che facciamo prima per 100 grammi di solito ne consumo 40-50 grammi abbiamo 4.7 di grassi 25 carbo quindi bassissimi 55 pro quindi veramente super proteici hanno un gusto buonissimo non rimangono, mi dispiace dirlo ma quelle di MyProtein i preparati per pancake non mi piacciono perché rimangono duri questi invece rimangono morbidissimi e poi non so se prendere le farine qua oppure prendere le zuzuna che ho visto da Mad Carolina perché c'è il 20% con TS20 e potete aggiungere il codice di Mad Carolina e poi come avete visto ci sono le spedizioni gratuite sopra i 19 euro quindi avevo messo nel mio carrello queste farine qua di Tsunami che mi ispirano da un sacco super scontate a 8 euro anziché 16 queste Hot Milk Instant Pure e l'ho messa al cioccolato bianco ha il Milk Cookies e il cioccolato Oreo Dark Cookies Oreo poi ho messo un fiocco d'avena nocciotella anche questo Mad dice che sono meravigliosi anche questi sono super scontati del 50% e infine avevo messo questa farina d'avena qua che ne sento parlare tantissimo di questo brand mi ispira da morire ed è anche questo in super sconto a 13,20 euro un chile e mezzo quindi tantissima anziché 22 e volevo provare il gusto bonbon Rocher e al 40% anche questa quindi ora vediamo un attimo però devo fare un pochino di ordini a parte questo vi volevo dire che ho finito Elite io avevo già guardato le prime due stagioni un po' di tempo fa e ho guardato la terza stagione appena uscita su Netflix Elite è una serie tv che mi piace mi prende nel senso che è la tipica storia da adolescenti la tipica serie tv con adolescenti che insomma quando non si voglia tanto di concentrarsi tiene compagnia mi è piaciuto il finale non mi ha fatto impazzire nel senso che mi aspettavo più colpi di scena mentre è abbastanza scontato non voglio farvi spoiler però ho finito Elite e credo che adesso inizierò Riverdale perché ho visto che è nella top 10 di Netflix oggi pranzo con insalata perché ieri sera abbiamo mangiato le birbe patate eccetera quindi oggi sta un pochino più attenti insalata pomodorini cipollina di tropea tonno e poi uvettina un pochino di uvettina poi io ci aggiungo un pochino di questa ragazzi che è buonissima se ancora non l'avete provata provatela non è il top dal punto di vista degli ingredienti però un pochino nell'insalata è poco poco da quella giusta croccantezza è fried onions quindi cipolla fritta la trovate da Ikea comunque se ne mettete giusto adesso vi faccio vedere poca 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 io non la conto neanche perché è veramente veramente leggere quindi mettendone poche è come se voi non l'aveste messa a livello di macro io ne metto un pochino così e questi saranno tipo neanche 10 grammi quindi non ha senso contarli e buona aggiungo anche un pochino di questa che è la spezia garlic and herb di bulk powders vi faccio vedere gli ingredienti queste spezie sono molto molto buone noi abbiamo queste due garlic and herb e il tandore che invece è più piccante questa mi piace nelle insalate e si abbina anche molto bene al pesce mentre la tandore l'abbinate di più magari a piatti di carne insomma non piatti freddi piatti un po' più caldi magari insieme ad altre spezie pollo eccetera eccetera io ragazzi spero di avervi intrattenuto anche in questo vlog spero che vi sia piaciuto nonostante ovviamente questo periodo particolare non permetta di fare dei vlog super ricchi di cose nonostante ciò se vi è piaciuto iscrivetevi al canale mettete un mi piace un commentino e noi ci vediamo al prossimo video al prossimo video Grazie a tutti.